Se ne sono andati un uomo e un pezzo di storia che sconvolse l'Italia, ancora oggi avvolto da tanto mistero. È morto all'età di 96 anni l'ex presidente della regione Campania Ciro Cirillo. L'esponente di punta dell'ADC fu sequestrato a Torre del Greco dalle Brigate Rosse il 21 aprile 1981 per poi essere rilasciato, dopo diversi giorni di prigionia, in circostanza ancora oggi avvolte da molti misteri. Un rapimento che ha segnato la memoria del nostro paese con il primo serio sospetto di trattativa tra lo Stato, le Brigate Rosse e la Camorra di Cutolo, a tre anni dal rapimento di Moro. Un magistrato, Carlo Alemi, oggi in pensione, imbastì una difficile istruttoria e firmò una storica sentenza nella quale svelò la trattativa tra DC, Brigate Rosse e Camorra. Qui, a differenza dell'altra trattativa, stato mafia, dice Alemi a Repubblica, c'era anche il terrorismo. Se Cirillo non fosse stato rapito, avrebbe gestito 20.000 miliardi in vecchie lire della ricostruzione, ma dopo 89 giorni di sequestro, l'ex assessore venne rilasciato dietro pagamento di un cospicuo ricatto con l'intercessione di Don Raffaele. Il boss della nuova Camorra organizzata che dal carcere avrebbe orchestrato la liberazione. La libertà di Cirillo costò quasi un miliardo e mezzo di vecchie lire, ma si parla anche di altro denaro e di un intero arsenale promesso ai brigatisti. Ma per Alemi il caso è chiaro, dice ancora, la prima trattativa stato mafia-terrorismo è stata confermata in più sedi ufficiali. Per me fu molto difficile lavorare all'epoca su questa vicenda, avevo il telefono intercettato e a tutti dicevo che non avevo trovato nulla. I funerali di Cirillo si terranno oggi pomeriggio a Torre del Greco alle 16.30. Grazie a tutti.